La finestra su Ferrara, attualità cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben trovati ad una nuova puntata della finestra su Ferrara, oggi parleremo dello sport estense e lo faremo con una gloria del nostro calcio bianco-azzurro che è Riccardo Cervellati, classe 1962, ruolo portiere. Tutti gli appassionati della SPA naturalmente lo ricorderanno anche perché Riccardo oltre a essere stato un portiere della SPA è anche un nostro concittadino, è nato a Ferrara. Quando iniziano le tue passioni calcistiche Riccardo? Cioè dove comincia il piccolo Riccardo a calciare il pallone? Innanzitutto ben trovati a tutti i radioscoltatori. Il mio calcio comincia come il calcio di tantissimi bambini di tanto tempo fa, non c'era bisogno di nessuna scuola calcio, bastava scendere in strada o andare in un giardinetto e lì si cominciava a giocare per ore e ore. E trovavi a confrontarti con bambini della tua età, con ragazzini più grandi e anche con adulti che ogni tanto partecipavano a partite con i bambini. Quindi è nato così. Poi dopo c'era la parrocchia di San Maieretto dove comunque c'era un campo da calcio, c'era una squadra della parrocchia e c'era un allenatore greco che qua ha fatto la storia, certo Tannagio Culuris con cui ancora io sono in grandi rapporti anche se lui abita ad Atene oggi ogni tanto viene a Ferrara e quindi sono rimasto molto legato. Sono rimasti legati tantissimi miei coetanei. Quindi in maniera molto semplice lì ho cominciato a giocare, anche abbiamo il nostro torneo provinciale, poi quello regionale, come tutti quanti. È chiaro che è molto diversa la situazione di allora rispetto a quella di adesso. È improponibile adesso pensare di cominciare a giocare a pallone in questa maniera. Adesso è necessario essere accompagnati, è necessario avere una struttura, è necessario avere una scuola calcio, è necessario avere degli allenatori. Noi invece siamo cresciuti diciamo un pochino più in maniera più facile, senza bisogno di tutto quanto. Ci costruiamo noi l'allenatore, diventavamo noi allenatori noi stessi, ci costruivamo il campo e da lì forse tanti potevano crescere e migliorarsi proprio grazie a questo tipo di impostazione con cui si giocava a pallone. Se ricordo bene Riccardo, il campo di San Benedetto era un campo in terra battuta. Esattamente. Io facevo il portiere, quindi potete immaginare più che altro come poteva uscire ridotto dopo una partita, però c'era il suo fascino. Anche in questo era un campo in terra battuta, allora i campi in erba c'erano, ma non è che se ne trovassero quanti se ne trovano ora. E quindi adattavi un pochino a tutte le situazioni, era un campo che se ripenso adesso in che condizioni giocavamo allora veramente c'era prendersi paura, perché adesso i genitori sono allarmati per i loro figli quando entro in un campo normale. Allora giocavamo sulla terra battuta con una tribunetta ridosso del campo dove potevi inzuccarti tranquillamente con un marciapiede dall'altra parte capiamo che tutto poteva succedere, però alla fine forse anche questo ti permetteva di svegliarti velocemente e di adattarti a tutte quelle che erano in situazioni anche difficili. Tra l'altro ricordo benissimo che nonostante il campo che tu hai descritto fosse veramente spartano, a San Benedetto si faceva uno dei tornei più prestigiosi di Ferrara di calcio a sette. C'era la Don Bosco, la famosa Don Bosco che riempiva le tribune veramente nelle sere d'estate della parrocchia, ma la parrocchia era vissuta in maniera molto diversa allora, c'era una partecipazione totale che andava dalla messa a domenica a proprio una partecipazione quotidiana in tutte le ore, quindi è difficile tra paragonare sinceramente il mondo di allora con quello di adesso. Ci dicevi che già da bimbo quindi il tuo ruolo è stato da portiere, l'hai scelto da su, ti sei sentito subito vocato al ruolo di portiere? Non proprio, nel senso che comunque mi è sempre piaciuto giocare anche fuori, allora si faceva anche così, che si tornava un pochino in porta, tutti erano portieri, tutti erano attaccanti, tutti erano difensori, quindi alla fine anch'io amavo giocare fuori anche dalla porta, poi dopo ogni tanto mi andava di andarci e lì forse è nata questa passione, nel momento in cui mi trovavo in porta mi sentivo bene, altri non vedevano l'ora di uscire e a me piaceva e da lì forse ho capito che quello doveva essere il mio ruolo. Quando fai il salto e passi dal calcio improvvisato della parrocchia a un calcio organizzato, cioè entri in una squadra giovanile di quegli anni? Beh, il passaggio importante è al dirà che sono andato a giocare un anno a 12 anni, 13 anni nella Audax, che è un'altra squadra qua più o meno similare alla squadra delle Tusche, si chiamava così quella della parrocchia San Benedetto, a 14 anni il vero salto è stato quando mi ha visto, comunque eravamo queste squadrette abbastanza controllate dai responsabili della giovanile della spalla, mi ha visto Luciano Cassanti che era allora responsabile della giovanile della spalla, sono andato a fare un provino alla spalla, lì mi hanno preso, quindi io a 14-15 anni sono entrato dalla spalla e poi ne sono uscito per la prima volta a 28, quindi se uno mi chiedesse cosa ho fatto per provare a fare il calciatore devo dire che non ho fatto nulla, tutto è nato in maniera naturale, le cose che facevo, la passione, il divertimento mi ha portato naturalmente da essere da un ragazzino che giocava così per passione a poi trasformare questa passione nel mio lavoro. e devo ripensando un attimo, poi facevo un'analisi tra me, ma lo facevo anche con i giornalisti di Ferrara, forse sono rimasto veramente l'ultimo e parliamo di tanti anni fa, perché parliamo di 40 anni fa e di più, è nato a Ferrara, è entrato subito al sottorio giovanile della spalla, è cresciuto al sottorio giovanile della spalla e aveva giocato per così tanto tempo in prima squadra della spalla prima di andare via, gli altri magari sono cresciuti, hanno fatto anche qualche carriera migliore a mia, ma sono tipo Buriani, arrivati via subito, Franco Fabio anche lui ha 19 anni e via via, non esiste forse un altro ferrarese proprio della città che ha fatto questo mio percorso interno a questa squadra con la continuità e trasformandosi da bambino a calciatore professionista proprio a Ferrara. Quindi tu sei veramente un prodotto, perdonami il termine improprio, del centro proprio di addestramento della spalla, che in quegli anni era il fiore all'occhiello della città. Parliamo di una realtà straordinaria in quegli anni, anche perché sinceramente eravamo tutti ragazzi della zona o della provincia, sì, ce n'erano due o tre che venivano da fuori mantenuti qua, però tutti quanti eravamo ragazzi nati qui, proprio di Ferrara, cresciuti qua. Tanti hanno fatto carriera di questi, stesso Paramatti veniva da Salara però è come se fosse un ferrarese, quelli che ho citato prima, ma anche quelli che hanno fatto un pochino, la mia generazione comunque in quella squadra c'erano tanti ragazzi, Luca Negri, Altioli, Veronesi, c'è gente che comunque ha fatto qualcosa anche a livello professionistico. Ora se io vado a vedere oggi cosa c'è nel settore giovanile della spalla, ma non solo della spalla, perché purtroppo è un fenomeno diffuso, nonostante si lavori molto bene, però è difficile trovare un ragazzino di Ferrara anche a 15-16 anni negli allievi, allora invece eravamo tutti ragazzi di Ferrara, questo farà pensare che prima di rivedere un altro ferrarese giocare il titolare nella spalla, prima squadra ci sarà tanto da aspettare. Anche se va detto però che oggi le giovanili della spalla, proprio quelle anche dei bambini, sono abbastanza frequentate, insomma al centro vanno anche tante squadre di piccoli, insomma di bimbi di 7 anni, 8 anni. Ma l'impostazione è molto diversa, adesso esiste un'accademia della spalla, esiste una scuola a calcio della spalla, allora non esisteva, ci andavi perché ti costruivi fuori e poi ci arrivavi a 14 anni, quindi è cambiato molto, sicuramente alla base, a livello sociale, nei bambini ci sono tanti bambini di Ferrara che iniziano e che vanno a giocare nella spalla, però dopo il percorso diventa un po' complicato e difficile, la selezione è molto forte, ne rimangono veramente pochi, poi alla fine riescono a continuare a giocare e arrivare, come dicevo prima, in prima squadra. Sì, allora poi se non ricordo male la spalla già filtrava all'ingresso, perché c'erano questi famosi provini di cui tu parlavi prima, che mi ricordo che insomma nel mondo dei ragazzini di quegli anni erano molto importanti, tutti li aspettavano con apprensione, si iscrivevano e speravano di entrare in qualche modo nella famiglia bianco-azzurra. Oggi, come dici tu, giustamente partono dalla base, è cambiato ovviamente l'approccio al calcio, oggi l'approccio anche per un bambino è molto più organizzato rispetto ad allora, quando c'era molta più spontaneità. Sì, è organizzato però molto più limitante a mio parere, perché comunque l'organizzazione prevede anche più difficoltà nel fare le cose, meno tempo da dedicargli, perché comunque allora si giocava veramente 4, 5, 6, 7 ore al giorno, oggi si gioca per un bambino 3, 6, 5 ore in una settimana, capiamo benissimo la differenza sostanziale che esiste, per far bene una cosa, per impararla bene bisogna farla tante volte, non c'è verso, non è che impari le cose in un'ora meglio di uno che la fa tutta la settimana, quindi naturalmente è più difficile, è molto più semplice da un certo punto di vista imparare determinate cose, però allo stesso tempo tutto questo fatto comunque di trovarti anche per strada a giocare, ti insegnava molto più di adesso, la scuola calcio era lì, nel senso che comunque come dicevo prima, ti trovavi con persone adulti, ragazzi più grandi di te che non ci pensavano due volte a menarti, ti trovavi un albero in mezzo al campo, quindi dovevi essere sveglio a non sbatterci la testa, comunque non avevi le maglie, non avevi casacche, dovevi riconoscere i tuoi compagni tenendo la testa alta, dovevi riconosci gli avversari uguali, tutte queste cose sviluppano poi delle capacità, senza che nessuno te le insegni, ti fanno crescere, questa è veramente la differenza sostanziale che esiste tra il calcio di allora e il calcio di adesso per i bambini, non a caso arrivano molto più facilmente ragazzi che vengono dall'Africa, da territori dove ancora queste cose possono fare e lo spirito di trattamento alla situazione diventa molto più semplice per loro che per noi. Quindi diciamo che il rischio delle scuole di calcio sono che ti facciano crescere, diciamo in modo scientifico, tra virgolette, ma che se c'è un vero talento rischi di essere standardizzato, cioè che venga in qualche modo intruppato nei metodi e quindi il talento magari abbia più difficoltà ad esprimersi. Talento si può riconoscere, comunque ci sono delle cose, dei fattori straordinari, anche naturali che un bambino può avere, il problema è che bisogna svilupparle queste cose qua, non limitarle, molto spesso la lacuna che proprio si nota è questa, che vogliamo trasformare i bambini in adulti, vogliamo far passare i concetti di calcio da adulti a dei bambini, invece li roviniamo perché alla fine dobbiamo lasciarli liberi di esprimersi in quelle che sono le migliori delle loro qualità, nel migliori delle loro capacità. Accanto a questo non partecipa solo la scuola calcio, non partecipano i allenatori a creare questo problema, perché comunque chi ci allenava noi da 8 anni? Nessuno, ci allenavano da soli, non c'era un bisogno di nessuno che ci suggerisse, era il nostro cervello che faceva crescere dentro di noi le qualità e la capacità. Oggi questa pressione addosso a questi bambini, da allenatori, dai genitori, dai nonni, dai procuratori che arrivano a età allucinanti, fa sì che il bambino si trovi in una situazione tale che non è verosimile, è una situazione quasi da adulto e molto spesso sai cosa fa? Si stanca, e dopo 2-3 anni passa la passione e smetti di giocare. Tornando alla tua carriera ci dicevi 14 anni in maglia bianco-azzura, quindi dal tuo ingresso ancora adolescente all'interno della spalla fino alla prima squadra. Qual è il ricordo più bello che tu hai di questo primo periodo alla spalla e quello che diciamo in qualche modo consideri un brutto ricordo? Ma brutti ricordi in quel periodo assolutamente non ce ne sono, perché solo il fatto di poter indossare la maglia alla spalla, di condividere uno spogliatore per tanti amici della mia età, con cui siamo ancora legatissimi, perché sai quando passi dentro lo spogliatoio e dividi certe cose le ritrovi anche molto velocemente. Mi ricordo le due cose più importanti, una che è arrivata dopo, che è stato il mio esordio a 19 anni, in Serie B, quando la spalla è ancora in Serie B, a Catania, in un Catania-SPAL, e quello sicuramente è la prima volta che indosso la maglia alla spalla titolare della prima squadra, in realtà molto giovane anche per il ruolo, e quindi mi ricordo molto bene, proprio tra i quattro partiti dopo giocavamo contro la Cremonese, mi fece gol un Vialli, che era un ragazzino, Vialli un 64, l'arri meno di me, dirà di Dio, aveva 17 anni, in un Cremonese-SPAL mi ricordo bene un suo gol, però il ricordo veramente che mi fa più ridere fu quello di due anni prima, in prima squadra ci fu un problema dietro l'altro di tutti i portieri, prima il secondo portiere, giocava Renzi allora, prima il secondo portiere, poi quelli della primavera, io giocavo negli allievi, ci fecero male tutti. Beh insomma, sabato mattina, mi ricordo ancora, ero a scuola, a liceo, allora non c'era un cellulare, non c'era nulla, bussò al bidello, professoressa, dobbiamo chiamarci a Ravellati, perché l'hanno chiamato dalla prima squadra della SPAL, perché lei partì con la prima squadra, oggi si andava a Vicenza a giocare, e io dovevo andare in panchina. Mi ricordo la sensazione ancora al banco, proprio mi tremarono le gambe, questa è la verità, c'era l'emozione, ma al stesso tempo anche una grande paura. E mi ricordo anche come vissi la partita il giorno dopo, perché comunque ogni volta che Renzi aveva un mezzo problema, c'era veramente il contrasto, pensare, ma posso andare dentro io a 16 anni qua, e quindi questa è veramente, di quel momento lì, il momento di quel periodo, il momento che ancora ho il flash proprio di quella mattina. Quindi senti ancora l'emozione, la forte emozione. Tu rimani quindi, 14 anni abbiamo detto, nella SPAL. Cioè sono entrato a 14 anni, a 19 esordito, poi sono uscito per la prima volta a 26, a 26 feci 7 campionati nella SPAL professionista. Quindi tu dopo 14 anni che vesti la maglia bianco-azzurra, dalle giovanili fino alla prima squadra, arriva il primo trasferimento. Come l'hai vissuto? Perché tu fondamentalmente uscivi da casa tua. Ma c'è un passaggio che io mi ricordo bene, altri si sono dimenticati. Quando io finì a 26 anni con la SPAL, ci fu un momento mio un po' particolare anche nei confronti del calcio. Mi richiese l'ospezia, però in quel momento lì avevo un po' di nausea, diciamo così, perché venivo da un anno un po' difficile, anche qua a Ferrara con la SPAL. Poi mi ero riscritto all'università. Feci una scelta quasi di, non dico di mollare, ma arrivare quasi a quel punto, perché per un anno stetti fermo. Stetti fermo e privilegiare l'università. Era l'88, 88-89. Feci 4-5 esami all'università, andai avanti, quell'anno me l'ho presi proprio così, di stacco. Andai a giocare con gli amatori, con i miei amici. E quasi sembrava veramente tutto finito. Anche dentro di me venivano venuti a mancare un po' di stimoli, sinceramente. Invece che accadde? Che la Centese retrocedette da C1 a C2, proprio nello stesso anno, perché l'89 fu la retrocessione anche dalla SPAL da C1 a C2, quando io non giocai. Retrocedette anche la Centese, lì si ripartì da zero, e mi chiamò il presidente della Centese, che mi chiese se avevo voglia di tornare a giocare da professionista. Io pensai, sì, è qua vicino, posso continuare all'università, e vado. L'allenatore è a Gigi Cagni, un martello allucinante. Mi puntò gli occhi addosso per tutto il ritiro, per vedere un pochino le mie reazioni, come stavo, la mia voglia, mi ricordo ancora. Alla fine però partì bene, ritrovai l'entusiasmo, ci fu uno SPAL Centese qua, prima volta che venne a giocare contro la SPAL, dopo ne parliamo un secondo, in cui parai tutto, la Centese ha vinto 1 a 0, quella partita se la ricordano ancora tutti. Avevo dentro una voglia di rimettermi in luce pazzesca, e da lì ripartì la mia carriera. Cioè ripartì la mia carriera qua vicino a casa, quindi stiamo parlando sempre vicino a casa. Feci quell'anno un'imbattibilità a centro di 1.038 minuti, 12 partite senza prendere il gol. Quindi fu un anno straordinario, l'anno dopo lo rifeci bene a centro, da lì andai a Bologna. Quindi c'è dietro una storia molto strana, per far capire che dalle difficoltà si può veramente rinascere in maniera incredibile, e quindi è successo questo. Hai capito? Proprio nel momento più difficile del calcio, dopo sono ripartito, e dopo a Bologna ho avuto forse le soddisfazioni massime della mia carriera. Quindi ti hai ripreso un anno sabbatico per poi ritrovare invece la voglia di... L'ho ritrovata a cammino facendo. Forse avevo pensato anche di smettere, forse avevo pensato di trovare un'altra strada di lavoro. Avevo 26 anni, era un momento un po' così. Anche perché questo fatto di essere nato a Ferrara, di aver giocato qua, non mi ha mai fatto cambiare vite. I miei amici sono rimasti quelli di prima, non è che ho avuto amici nel calcio, ma non è che la mia vita si era trasformata. Cioè lì c'era, poi c'è stata l'università, venivo da una famiglia chiaramente, con una certa educazione, con una certa impostazione, che mi ha fatto sempre capire e dare il valore allo sport giusto, importante, ma far capire che la vita è anche un'altra. Quindi ho sempre mantenuto i miei interessi, ho sempre fatto le mie cose. Tutto questo mi ha fatto dire ma smetti di giocare, ci sono altre cose nella vita. Poi invece, caso voluto, proprio che ho ricominciato, il calcio è rimasto sempre dentro di me, anche ai miei lavori successivi. Quindi alla fine è una passione che uno pensa di eliminare, ma non è così. Passi dalla Centese al Bologna e quindi un cambio straordinario anche proprio di assetto della società, dimensione della città. Ecco, come hai vissuto questo passaggio al Bologna? Come tutte le cose che uno va a fare, all'inizio sembrano insormontabili, la prima volta che ci arrivi, mi ricordo, divenne direttore sportivo Antonio Cabrini, quello anno lì. Appena arrivato a Bologna, io sarei in macchina con Cabrini, campione del mondo e tutto il resto. Quindi già lì, l'impatto fu un impatto violento, con un altro mondo. presentazione della squadra, mi ricordo il CRB, era una squadra che eravamo in B, ma ricostruita per vincere subito, con dei giocatori fortissimi, turchi, mazzi incocciati, baroni, dettari, roba impressionante per la Serie A di adesso. Questa presentazione c'era la tribunetta del campo di CRB, campo al tennis, pieno zeppo. Quindi, comunque un impatto da paura, cioè da paura mi sono reso conto, ma dove sono? ce la farò? Questi pensieri che passano nella testa di tutte le persone che vanno a fare un qualcosa che avevi mai fatto prima, che ti sembra insormontabile, difficile. Dopo ti adatti a tutto, piano piano, capisci che ci puoi stare, capisci che hai la stima della gente, viene la fiducia in te stesso e da lì riesci a cogliere delle cose, a fare delle cose che mai ti saresti immaginato. E dopo diventa la normalità giocare nel Bologna. Quando io adesso, anche quando entro al Paolo Mastra, mi capita andare a vedere la porta dall'Ara, veramente dico ma davvero io sono stato qua? Non ti rendi neanche conto veramente di quello che hai fatto, di quello che è successo? Davvero io giocavo davanti a 30-35 mila spettatori dall'Ara? Davvero giocavamo qua a Ferrara in un stadio, per tante volte in un stadio così pieno? Cioè ripensando veramente a quello che hai fatto, che quel giorno ti sembrava naturale, quando lo rivedi, rivedi una cosa straordinaria che poi alla fine è naturale. Questo passaggio al Bologna cambia la tua vita nel senso che ti trasferisci a Bologna per stare vicino alla squadra o continui a vivere come prima, quindi frequentando i tuoi amici, vivendo a Ferrara e andando a Bologna solo per... Non ho cambiato di molto perché l'anno sono stato a Bologna e mi sono sposato, quindi comunque dopo ho avuto una figlia velocemente, mia moglie lavorava, era avvocato, quindi mi sembrava illogico per 40 chilometri di strada dover rivoluzionare la vita non mia, la vita di altre persone, quindi sono andato avanti nella stessa maniera. Ho parlato con la società, con Bologna perché chiaramente c'erano della strada da fare, hanno consentito la cosa, ho detto proviamo a partire così, se non va bene io mi trasferisco a Bologna quindi non c'è problema, però alla fine era accorsata bene per 4 anni ho fatto così, mi fermavo martedì sera quando magari c'era prima lamento c'era il doppio mercoledì perché la nebbia, queste cose, avevo una camera a Casteldebole che condividevo con Gianluca Pessotto da lì in atto questa mia grande amicizia con lui ho continuato a fare la mia vita per questo io veramente io ho sempre fatto il calciatore senza accorgermene ho giocato a pallone penso più di aver giocato a pallone che di aver fatto il calciatore come professione questo è stato un lato positivo della mia carriera della mia vita perché mi ha permesso di coltivare mi sono laureato e farmi le altre cose che adesso mi fa piacere aver fatto però è stato credo anche un limite cioè è stato un limite alla mia carriera perché calciatore forse ti senti veramente quando sei da solo lontano e forse lì senti veramente che stai facendo quello ecco a me è mancato questa cosa per fare veramente quel salto di qualità che come doti come carattere per certe potevo avere ecco diciamo che hai scelto forse anche inconsciamente di restare vicino al tuo mondo e quindi alla tua famiglia ma al di là di questo non è tanto cioè il fatto di aver voglia di coltivare altre cose per me il calcio è sempre stato tantissimo ma abbinato ad altro il fatto di andare a fare l'esame all'università mi permetteva di dire vabbè se sbaglio un esame tanto faccio il calciatore allo stesso tempo sbagliavo una partita tanto sto facendo sto facendo lo studente e mi laurerò e avevo un altro percorso quindi ho sempre vissuto le due cose mi ha permesso questo qualcuno diceva non si possono fare due cose insieme è un limite io invece ho sempre pensato che fosse una crescita comunque perché tanto di tempo un po' di esposizione c'era e quindi questa cosa mi alleggeriva cioè il fatto che ne facevo un'altra mi alleggeriva nella cosa che facevo mi metteva meno pressione tutto qua Ferrara-Bologna Spal-Bologna antiche rivalità che da ferrarese conosci benissimo che differenza hai trovato come calciatore di queste squadre nel rapporto con i tifosi hai sentito pressioni più a Ferrara più a Bologna oppure diciamo che entrambe le tifoserie in qualche modo non ti hanno mai influenzato più di tanto sono due dimensioni completamente diverse nel senso che ma non solo di squadre stiamo parlando di città comunque di televisioni radio c'è una pressione diversa a Bologna puoi giocare in qualunque categoria ma ti battezzano ti valutano sempre da giocatore Serie A ci sono sette scudetti dietro cioè c'è un peso completamente diverso c'è uno stadio più grande c'è più gente se ne parla di più Ferrara è Ferrara rispetto a Bologna quindi il derby anche a Bologna lo sentono però ho sentito molto più Ferrara verso il Bologna quando vai da quello più grande Ferrara ha pressioni diverse a me ha pressioni Ferrara l'ho sentita soprattutto per il fatto che ero ferrarese ecco questa è stata l'unica pressione che ho sentito che tutto ha funzionato benissimo fino all'ultimo anno perché io ho fatto molto bene gli anni precedenti l'ultimo si è arrivati a un punto in cui forse la gente aveva bisogno di cambiare vede un altro import io avevo bisogno di vedere un altro stadio e quindi tutto qua però non sono imparagonabili le due cose non posso dire che ci sia una pressione diversa dico solo che c'è un ambiente diverso una situazione diversa difficile da confrontare perché Bologna è una grande città Ferrara è una città un po' più di provincia e tutto questo anche nel calcio si manifesta scorrendo diciamo gli anni della tua carriera tu sei passato per diverso tempo Spalla Centese Bologna quindi presumo non ho fatto un raggio di 40 km esatto ma appunto è proprio per questo presumo non ho fatto i conti ma penso di non sbagliare se dico che sei probabilmente il calciatore che ha giocato più derby sicuramente in questo contesto Spalla Bologna sicuramente perché tra panchina e titolare io li ho fatti tutti perché una volta era la Spalla cioè gli anni che ero a 100 Spalla Bologna non si incrociavano quindi il primo derby a cui non ho partecipato attivamente è stato quello dell'anno scorso tra Spalla e Bologna perché non si incontrava in un derby dagli anni della Serie B nel 1993 e io ero a Bologna allora prima era a Ferrara quindi ho fatto qualche derby Spalla-Bologna con la maglia della Spalla quando Bologna faceva la Serie C ci hai già anticipato prima che i derby erano più sentiti dal pubblico ferrerese rispetto al pubblico bolognese quando si entra in campo per giocare un derby di questa importanza soprattutto a Ferrara c'è un clima diverso negli spogliatoi c'è qualcosa di diverso o è una partita che voi preparate con gli stessi stimoli oppure lo stesso allenatore ci tiene la società magari chiede prestazioni particolari ma oggi è cambiato penso anche questo perché comunque tanti giocatori stranieri la Spalla neanche la conoscevano cioè voglio dire fino a due anni fa si chiedeva la Spalla Palassio forse non sapeva cos'era ai miei tempi era completamente diverso e allora il derby era sempre il derby e poi nel mio caso era la partita dell'anno io di Ferrara poi andavo a vedere anche il Bologna perché i miei sono di Bologna da ragazzino sono andato a giocare nei due stadi in cui andavo a vedere partite da bambino la serie B qua a Ferrara la A a Bologna e quindi sono riuscito a giocare proprio lì dentro quindi per me era assolutamente la partita più importante dell'anno e continua ad esserla anche oggi quando si gioca a Spalla Bologna per questo dico la rivalità è stupenda ma io voglio veramente e tutti anche i ferraresi e i bolognesi e i ferraresi devono volere che l'altra squadra rimanga in Serie A perché è molto più bello vedere Spalla Bologna che Spalla Empoli e la stessa cosa è molto più bello che Bologna è Spalla che Bologna è Frosinone il fatto di dire non vediamo allora che Bologna è troceda o Bologna dicono è una fesseria è una fesseria perché solamente il fatto di poter partecipare a un evento di questo tipo qua deve essere gratificante per qualunque tifoso sì ci si priva di grandi emozioni basta anche solo pensare alle coreografie che preparano le varie curve nell'occasione dei derby la partecipazione proprio perché il coinvolgimento di tutti pienamente d'accordo bene Riccardo quindi tu fai questi anni a Bologna con questa squadra ci ricevi che era stata proprio rinforzata al massimo come vanno questi campionati? per me molto bene per quanto riguarda il mio aspetto personale perché ho un grande ricordo di Bologna mi ricordano ancora tanto questo ambiente io sono fatto così più la sfida è alta più trovo lo stimolo mi affloscio un pochino quando non esiste la sfida infatti le partite Spal-Bologna i derby sono quelli che ho giocato sempre meglio o Bologna-Spal perché è così e quindi ho avuto ricordi molto belli noi abbiamo avuto solo un problema come squadra perché il fallimento con Casillo del Bologna nel 92-93 quando è procedetto Spal-Bologna dalla B alla C da lì ripartimmo con Olivieri l'anno dopo perdemmo il play-off con la Spala alla semifinale l'anno dopo vincemmo il campionato mani basse sono 4 anni stupendi stupendi perché comunque ho conosciuto amici ho ancora amici ho condiviso lo spogliatoio con i più forti giocatori con cui ho giocato con cui mantengo amicizie rapporti e quant'altro sono stati anni bellissimi come sono stati anche quelli della Spala e come quelli della Centese ho dei ricordi belli a per tutto quando finisce questo tuo periodo nel Bologna dove ti trasferisci? vado in una squadra di provincia per due anni si chiama Iperzola ma che è un nome un po' strano però è l'unico anno di lettanti che ho fatto io perché c'è la serie lì tutto nasce da questo fatto che ad allenare l'Iperzola ci va Paolo Stringara Paolo Stringara è il mio scompagno del Bologna prima volta che allena anzi giocatore allenatore mi chiama mi dice dai 3-4 dovete venire qua con me perché vogliamo vincere dobbiamo fare un campionato assolutamente da vincere vogliamo costruire qualcosa lì abbiamo una certa età tutti però abbiamo ancora stimoli io Fabio Poli poi venne Danilo Neri altri due legastini del Bologna andiamo lì vincemo il campionato poi l'anno dopo facciamo la C2 quindi anche lì sono due anni diversissimi perché stiamo parlando di un calcio di provincia familiare cioè passare da Bologna lì la dimensione è totalmente diversa però ho dei bei ricordi anche lì e da lì ho rifatto bene infatti da lì dopo sono tornato alla Spal la Spal veniva dalla retrocessione alla C1 alla C2 anche lì disastro totale rifacimento della squadra totale tornò a Ranzani io non ho mai avuto procuratore faccio questo mestiere non ho mai avuto in vita mia mi sono sempre gestito Ranzani mi voleva già al Cosenza negli anni in Serie B e io non ci andai però quando lessi che era il 97 quando lessi che Ranzani diventare dietro sportivo andrei in sede e io mi dissi direttore noi non ci siamo mai incontrati io sento che sarebbe il momento per me di tornare a Spal per quello che è stato prima per dove sono stato adesso sento di portare ancora qualcosa il portiere titolare è Piero Bon in un ruolo diverso comunque perché sono di qua perché voglio ritornarci perché penso di dare un contributo non solo in campo un contributo da ferrarese dentro lo spogliatoio ricominciando un percorso che veniva interrotto tanti anni fa lui mi disse e firma qua quindi alla fine adesso sono persone che mancate quindi ci si emoziona un po' anche a ripensare a queste cose alla fine ci si torna intorno ci si rincontra e da lì arrivò De Biagi allenatore ci togliamo le soddisfazioni vincemmo io giocarei una partita in due anni quindi la mia partecipazione dentro il campo fu assolutamente zero però dal punto di vista emozionale lo fu quanto i percorsi precedenti quindi contribuisti diciamo dallo spogliatoio a questi risultati sì mi ricordo De Biagi mi disse mi prese da parte lui arrivava dal Carpi quindi anche lui era un momento particolare per lui per questo mantengo un buon rapporto con lui mi disse tu sei arrivo a Fausto Pari quindi stiamo parlando capitano Fausto Pari della squadra tu sei Fausto che è in campo e te devi starmi fuori e fai da capitano fuori ci mancherebbe altro e quindi questa cosa mi stimolò mi stimolò mi di energia mi fece ritrovare anche voglia di allenarmi voglia di far bene e infatti si capovolse anche il mio rapporto con il pubblico di Ferrara perché mi lasciai non bene nell'88 invece quei due anni portavo un riavvicinamento pazzesco sia di me al pubblico che del pubblico verso di me quando decidesti di chiudere con il calcio giocato Riccardo l'ho decisi il secondo anno alla SPA la primavera la primavera del secondo anno senti che non avevo più voglia non avevo più voglia non ero il tipo di dire vado a giocare in eccellenza vado a giocare nei campionati detantistici volevo finire bene volevo finire in una squadra della mia città volevo finire con qualcosa di importante senza andarmi a abbassare a giochicchiare da qualche altra parte infatti l'anno dopo sai cosa facevo il centro avanti al campionato amatori quindi e lì ci sono stato per 8 anni a fare il centro avanti quindi sei tornato a giocare con gli amici si con gli amici ho staccato completamente finito finito basta non conservo devo conservare credo che io conservi qualche foto due maglie roba così non ho più guardato dietro ho capito che al momento non c'è più stimoli proprio da allenarmi avevo capito che avevo 38 anni non avevo più voglia e ho detto cambio radicalmente la mia vita e anche le cose che vado a fare e infatti ho detto anche non vado più in porta giocherò fuori infatti con gli amici ho giocato fuori e sono stato nonostante io sia legato al ruolo del portiere al fascino di questo ruolo tantissimo ma proprio per quello non volevo andarmi a sminuire e andarlo a fare in contesti in cui non aveva per me assolutamente senso ho giocato solo due partite a portiere me lo possono chiedere tutti non mi metterò mai in porta le uniche due sono state il centenario della SPAR e il centenario del Bologna in cui dovevo farlo e l'ho fatto volentieri sei rimasto comunque all'interno del mondo del calcio oggi sei un professionista del settore e fai il procuratore che differenza c'è in questo ruolo dai tempi in cui tu eri calciatore ad oggi perché sono successe un mucchio di rivoluzioni ma l'ho detto prima io mi facevo anche da procuratore non c'era bisogno di nulla chiaro che guadagnavi meno non sapevi le squadre che ti volevano ti facevi il tuo contratto a fine anno anzi te lo facevano accettati prendi questi però era tutto molto più semplice con meno problemi io ho cominciato a fare il procuratore nel 2000 ho fatto l'esame l'ho passato subito appena smesso di giocare era abbinato ad un'altra attività che avevo già da anni nel campo assicurativo sempre in ramo sportivo ho cominciato con un gran entusiasmo devo essere sincero anche perché volevo comunque portare le mie teorie il mio modo di essere anche in un mestiere molto criticato e per tanti anni le cose hanno dato soddisfazioni devo anche dire obiettivamente che oggi il mondo anche dei procuratori è peggiorato radicalmente e faccio fatica a starci dentro cioè con le mie idee con il mio modo di fare veramente è una fatica abissale continuare a fare questo mestiere perché comunque non serve la serietà non servono le competenze sia dei commercianti ormai sono più forti i procuratori che hanno giocato a calcio di quelli che hanno giocato perché non pensano all'aspetto tecnico pensano all'aspetto commerciale e basta molto spesso si sbaglia la scelta però i giocatori vanno dietro e questo è lo scenario tutto questo il fatto che il procuratore sia pronto vediamo il caso Vandanara Icardi sia pronto ogni secondo a difenderti a far sì che diventi quasi il procuratore un appoggio totale nei momenti di difficoltà secondo me fa crescere pochi ragazzi una volta i nostri problemi ci risolvevamo in campo con l'anedatore io ho mai parlato dei miei problemi con l'anedatore con nessuno ho mai pensato che mi teneva fuori perché non ci fosse una ragione per cui stavo fuori stavo fuori perché l'altro andava meglio e quando mi meritavo giocavo io ho sempre pensato in questa maniera oggi non è così oggi appena c'è un problema penso che la colpa sia degli altri o che ci sia un castello creato contro di loro e in tutto questo io veramente faccio fatica un pochino a immedesimarmi e dopo anche il lavoro diventa più difficile per questo bene su queste considerazioni di Riccardo Cervellati si chiude il nostro programma ringrazio Riccardo Cervellati che ricordo è stato per molti anni portiere della nostra squadra la cittadina portiere bianco-azzurro ma ha giocato anche in altre prestigiose piazze del calcio italiano Riccardo Cervellati vi dicevo classe 1962 nostro concittadino e talento ferrarese grazie a tutti voi per averci seguito fino qui e a risentirci alla prossima puntata della Finestra su Ferrara avete ascoltato La Finestra su Ferrara attualità cronaca ed avvenimenti cittadini Grazie a tutti Grazie a tutti